Le eccellenze dell'agricoltura biologica del nostro territorio conquistano sempre più l'attenzione dei consumatori, persino quella degli esperti di tutto il mondo, tanto da meritarsi una convocazione al G7 dell'agricoltura in programma a Bergamo nel prossimo weekend. Ne abbiamo parlato con Giuseppe Lombardi, produttore e sostenitore del bio. Tu sei un produttore bio e sostenitore del biologico, quindi un'eccellenza di questo territorio, del territorio di Andria e non solo, ed hai partecipato per questo motivo al Festival dell'agricoltura a Bergamo, un festival che anticipa il G7 che si terrà il prossimo weekend, quindi 14 e 15 ottobre sempre a Bergamo. Che cos'è questo festival, tu che cosa hai fatto e com'è andata? Il festival che si è tenuto a Bergamo è l'apertura appunto dei lavori del G7. All'interno della piazza Bergamo si sono incontrati oltre 60 produttori bio per fare richiesta quindi ai vari ministri delle agricolture del G7 delle proprie aspettative di agricoltura, anche perché spesso la politica parla di sano e giusto, di cibo senza pesticidi, senza chimica, però magari poco si investe nell'agricoltura biologica, quindi a livello di PSR e così via. Anche se oggi stiamo raggiungendo l'obiettivo che il 20% della SAO, quindi della superficie agricola italiana, sta diventando tutto in agricoltura biologica, quindi si chiedevano maggiori controlli, si chiedeva maggior serietà del settore, si cercava di far forza e di fare richiesta quindi al settore. Una giornata fantastica quella di Bergamo, grandissima partecipazione dei cittadini, a differenza purtroppo della nostra regione dove siamo grandi produttori ma ultimi consumatori, c'è sempre questa diffidenza un po' nei confronti del biologico, che di fatto è l'unica agricoltura oggi regolamentata e più controllata delle altre, quindi se perlomeno esiste bisogna dargli credito e bisogna anzi lottare verso il falso, come appunto si diceva degli ultimi scandali che sono successi. Io ho partecipato a Bergamo, non era dovuta la mia partecipazione, anzi è oneroso il dover andare su, il dover chiedere, unica azienda pugliese. Ho partecipato non solo presentando la mia produzione agricola, quindi il nostro olio da varietà coratina, ma proponendo anche uno spettacolo di teatro, tenuto da Vittorio Continelli, quindi la mitologia dell'uliva e dell'olio, proprio perché spesse volte con l'agricoltura biologica c'è anche una forte sensibilità culturale del settore, quindi abbiamo dato alla cittadinanza di Bergamo uno spettacolo tutto pugliese e tutto su una produzione agricola nostrana, quindi l'ulivo e l'olio. La situazione dell'agricoltura biologica e sociale in Puglia? L'agricoltura biologica in Puglia, io faccio parte anche del direttivo dell'AIAB, quindi l'Associazione Italiana Agricoltura Biologica, è in continuo fermento. Tante aziende agricole si stanno certificando in biologico, quindi stanno allontanando i vecchi sistemi di agricoltura, quindi c'è sempre maggior interesse. Sull'agricoltura sociale siamo un po' più indietro, nel senso che dobbiamo fare ancora molto. È poco sentito questa attività benevola dell'agricoltura nei confronti del prossimo. Però anche in questo caso riusciamo a dar voce, a programmare anche qualche iniziativa sul territorio.